Per rispondere alla domanda se sia meglio un fondo azionario o un fondo obbligazionario, è bene sapere in cosa si differenziano questi strumenti. Ecco in estrema sintesi cosa è importante sapere. I fondi azionari, in inglese equity funds, investono principalmente in azioni e per una componente minore in obbligazioni e liquidità. I fondi azionari comportano l'assunzione di un significativo livello di rischio, ma solitamente garantiscono rendimenti maggiori con oscillazioni minori rispetto all'acquisto di singoli titoli azionari. Questo grazie all'equilibrio tra la componente azionaria e quella obbligazionaria barra liquidità. Anche l'alto grado di differenziazione per zona geografica e valuta contribuisce al contenimento del rischio. Solitamente un investitore privato acquista soltanto alcuni titoli. Un fondo azionario normalmente detiene invece un grande numero di titoli, appartenenti a settori molto diversi tra loro. In questo modo riduce il rischio connesso all'eventuale andamento negativo di un singolo titolo. Per la variabilità dei suoi prezzi, nella sottoscrizione di un fondo azionario, è bene avere per i propri risparmi un approccio almeno di medio e lungo periodo. I fondi obbligazionari, in inglese bond funds, investono massimamente in obbligazioni ordinarie emesse da società, in inglese corporate bonds, e titoli di stato, sia a tasso fisso che variabile. Nel confronto con i fondi azionari sono decisamente meno rischiosi, ma solitamente anche meno remunerativi. Per quanto concerne invece l'approccio temporale, come metro per scegliere il tipo di fondo obbligazionario nel quale investire, è bene considerare che maggiore è la durata dei bond nei quali investe il fondo, tanto è più alto il rendimento atteso, ma, allo stesso tempo, maggiore è anche il rischio assunto. Per la scelta del fondo da sottoscrivere, si deve fare il ragionamento opposto, partendo dai propri obiettivi. Se si mette in conto di avere bisogno di liquidità in un lasso di tempo relativamente breve, allora è decisamente consigliabile focalizzarsi verso fondi che investono in obbligazioni di breve durata. Rispetto a quelli azionari, quindi, i fondi obbligazionari sono da preferirsi per investimenti che abbiano un orizzonte temporale che va da breve a medio e lungo. Dunque, quale scegliere? Anche in questo caso, pianificazione e consapevolezza sono i criteri da seguire per effettuare la nostra scelta. La pianificazione, attraverso l'identificazione dei nostri obiettivi di vita, assegnando a ciascuno il suo arco temporale. La consapevolezza, attraverso la conoscenza delle caratteristiche dello strumento finanziario e dei suoi benefici barra rischi per i nostri soldi. Quindi, come ho già avuto modo di dire, la domanda da porsi non è quale sia il migliore, ma bensì il più adeguato alle nostre esigenze.